Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove ci sono rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico, in direzione Bologna. In A12 controllo della velocità attivo tra Colle Salvetti e la barriera di Rosignano Marittimo, in direzione Rosignano. Spostandoci sulla FIPILI, rallentamenti per il traffico intenso tra la diramazione per Pisa e Pontedera-Ovest-Ponsacco, in direzione Firenze. Spostandoci sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra Badesse e Siena, in direzione Siena. Il volo da Düsseldorf atteso a Firenze alle 16.55 atterrerà alle 17.50, ripartenza delle 17.35, prevista alle 18.30. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!